si parte mondiali 2014 futsal calcio tremonti football club calcio 5 lato sinistro italia lato destro germania ora incominciamo subito il cuore un po' e batteva a 40.000 ho sentito troppo male troppo ritirato e tu invece la cazzina ho pronta a pasta ma quando stava con kiddo ma con lulù con lui si è arrivato al contrasto io anzi sono quello che va sempre contro l'abio perchè l'arbitro è come se lavora con noi lavora con noi non si sono così questi gente comunque che vuole fare un workout da noi ma non fare un'ambiente diversi vittorio non devi aiutare vittorio 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 è un problema giusto 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 tor E' un'altra cosa. Grazie! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!